ciao a tutti questa sera un mini unboxing una piccola descrizione di una cosa che mi è appena arrivata che trovo molto interessante è una borsa per il trasporto del drone in particolare di mini droni questa nasce come borsa per il mini 2 è acquistata per il fini mini comunque funziona molto bene piccolissimo unboxing arriva in questa scatola poi c'è la busta di plastica e dentro la borsa ecco qui capriamola una borsa piccolissima ma molto comoda ben imbottita equivalente di una diciamo le classiche borse fotografiche questa è la tracolla che si attacca così poi dentro c'è un altro moschettone mettere qui per portarli in qualche modo qui c'è il passaggio teoricamente per la cintura e dentro ci sono due diciamo divisori imbottiti che possono essere usati per dividere la borsa poi ho smontato per la recensione ecco qui e adesso procediamo a riempirlo ed eccomi arrivare in campagna con la mia borsetta e predisponiamoci a fare un ruolo allora apriamo e qui troviamo allora mi avvicino così il nostro bene nei tre scomparti ci abbiamo dalla parte il radiocomando il drone e poi vediamo cosa c'è al centro intanto estraiamo ecco il drone il radiocomando con gli stick al suo posto e cosa mi porto dietro documenti quindi le assicurazioni attestato anche se non serviva lo smartphone lo dedicato al drone in cui c'è soltanto le applicazioni necessarie c'è la finina avivini c'è di flight c'è l'applicazione di forecast quella per il meteo è una livella perché io reputo che sia estremamente importante accendere il drone su una superficie veramente orizzontale e poi i vari cavetti i manualetti il drone è una cosa estremamente importante una power bank questa è una power bank presa su amazon c'è la ricarica rapida a 2 ampere 9 volt e quindi si ricarica completamente la batteria in un'ora e mezza di questo genere diciamo tenendo le batterie in storage una mezz'oretta me la ritrovo del tutto carica ok quindi come vedete tutto quello che mi serve per volare in questa piccola borsetta spero che la cosa sia stata di vostro interesse in descrizione un link aliexpress dove ho comprato questa borsetta il canale vi auguro una buona serata a presto